Il treno regionale di Tipeo, diretto a Ferrara, delle ore 19 e 28, partirà dal binario 10, invece che dal binario 8. Attenzione! Tranquilla, arrivo al binario di Piazzale Ovest, allontanarsi dalla linea gianta. Grazie a tutti! 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 Il treno regionale veloce 21 per impassare le stazioni di effetto in vecchio dal fuoco in carbonio. Il treno regionale veloce 21 per impassare le stazioni di effetto. Il treno regionale veloce 21 per impassare le stazioni di effetto. Il treno regionale veloce 21 per impassare le stazioni di effetto. Il treno regionale veloce 21 per impassare le stazioni di effetto. Il treno regionale veloce 21 per impassare le stazioni di effetto. Il treno regionale veloce 21 per impassare le stazioni di effetto. Il treno regionale veloce 21 per impassare le stazioni di effetto.